38 squadre in campo per la 39esima edizione del trofeo nazionale di pallacannestro Guido Guidelli. La manifestazione giovanile organizzata dalla Scuola Baschettarezzo ha registrato il sold out di iscrizioni e da giovedì 25 a sabato 27 aprile tornerà ad aggregare centinaia di giovani promesse da tutta la penisola che si confronteranno nelle categorie under 13 ed under 14. Un particolare successo è stato riscosso dall'assoluta novità del trofeo femminile dove saranno impegnate anche le ragazze della squadra della SBA allenate da Adriano Alfieri assieme a Roberta Bindi. Il torneo maschile invece riunirà 28 formazioni che arrivano da ben 9 regioni. Questa partecipazione rinnoverà un'importante occasione di confronto ed incontro tra ragazzi di tutta Italia e troverà il proprio cuore nella tradizionale serata di gala di venerdì 26 aprile quando il pala sportestra Mario D'Agata ospiterà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre a prescindere dai risultati raggiunti sul campo. La presenza di formazioni provenienti dall'intera penisola ribadisce dunque anche l'impatto turistico del trofeo Guido Guidelli che oltre ad essere una delle manifestazioni cestistiche giovanili tra le più longeva a livello nazionale e anche un volano promozionale del territorio andando a catalizzare migliaia di visitatori in virtù del seguito di dirigenti, tecnici e famiglie.